Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare con dei attratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e il Bivio Colla 1. Fibili in calo a 2 km la coda per incidente tra Empoli Est ed Empoli. Ci troviamo nella carreggiata in direzione Mare. Verso Firenze rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Il traffico ferroviario riprende la circolazione a doppio binario a seguito dell'interruzione per accertamenti delle forze dell'ordine tra Firenze e Santa Maria Novella ed Empoli. La circolazione riprende gradualmente. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, prudenza per probabile presenza di materiale in carreggiata segnalata in viale Pieraccini. Ricordiamo inoltre i lavori PNRR di rifacimento all'acquedotto su via Bolognese e percorsi alternativi sui nostri canali social. Aversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!